in questo numero quattro patologie autoimmuni del fegato tutte rare ma solo una riconosciuta esperto usa entro due anni test vaccino anti aterosclerosi su uomo e ancora 17 milioni di ipertesi in italia dallo studio escape i dati su nuova terapia con can renone l'esperto attenti a capodanno col botto il cardiologo italia agli ultimi posti in europa per interventi mini invasivi con valvole salvavita il vero falso di questa settimana parla di fantasie sessuali e per concludere le news scelte per voi dalla redazione quattro malattie autoimmuni del fegato tutte rare ma una sola inserita nella lista ufficiale la colangite sclerosante primitiva le altre epatite autoimmune colangite biliare primitiva colangite ig4 positiva non sono considerate tali dal sistema sanitario un mancato riconoscimento che penalizza i pazienti la più frequente è la colangite biliare primitiva che si stima colpisca in italia circa 13 mila pazienti come hanno ricordato a roma gli esperti in un incontro sul tema organizzato dall'osservatorio malattie rare omar con il patrocinio di fire onlus fondazione italiana per la ricerca in epatologia e il supporto non condizionato di interceptor identikit della paziente è una donna di intorno ai 45 55 anni quindi vicino alla menopausa che ha un prurito che ha avuto in certi periodi della sua vita dell'età fertile e che presenta tra gli esami del sangue dagli esami di laboratorio un aumento della fosfatasi alcaline la burocrazia è uno dei nemici dei malati rari che devono fare i conti con sistemi che spesso restano indietro rispetto alla ricerca i progressi scientifici hanno portato per esempio a dare un nuovo nome alla colangite biliare primitiva prima conosciuta come cirrosi biliare primitiva una novità che a livello amministrativo non è ancora pervenuta la colangite biliare primitiva in italia non è nella lista delle malattie rare questo significa che questa malattia non può essere gestita dai centri di riferimento cioè i centri che si dedicano alla gestione di questa malattia quindi crea un problema sia ai centri sia agli stessi pazienti quali non ricevono il trattamento da parte dei centri di riferimento dedicati a questa malattia risolvere il problema aterosclerosi con un vaccino una punturina che promette di rendere le pareti delle arterie impermeabili al colesterolo ossidato prevenendo la formazione delle placche e proteggendo così da ictus infarto e patologie aterosclerotiche già sperimentato con successo sugli animali potrà essere presto usato sull'uomo siamo in fase molto avanzata tra un anno e mezzo due potremmo iniziare i test sull'uomo la malattia coronarica resta la prima causa di morte nel mondo lavoro all'idea di un vaccino in collaborazione con il laboratorio di janna nilson in svezia da 20 anni ma perché vaccinarsi per contrastare la terosclerosi i vaccini hanno eliminato molte malattie infettive la terosclerosi è per così dire una patologia autoimmune in cui il sistema immunitario attacca il colesterolo ldl e questo porta a infiammazione e alla formazione delle placche l'idea era quella di modificare la risposta immunitaria ma lei lo utilizzerebbe speriamo che il vaccino sia un successo sull'uomo come lo è negli animali quando si dimostrerà sicuro ed efficace io stesso me lo farò l'ipertensione arteriosa colpisce 17 milioni di italiani uccide ogni anno 7 milioni e mezzo di persone nel mondo e scatena complicanze quali ictus infarto del miocardio insufficienza renale cronica ma adesso un nuovo farmaco potrebbe consentire di salvaguardare gli organi bersaglio del killer silenzioso cuore vasi e reni è quanto emerge dallo studio escape realizzato con il supporto della società farmaceutica belga terabel lo studio escape è uno studio realizzato completamente in italia e ha visto trattati i pazienti ipertesi in stadio secondo non a target già pretrattati con acidimitori sartanici e idrocootiazide al massimo dosaggio a questa strategia è stato aggiunto il canrenone che è un antagonista recettoriale selettivo dell'aldosterone e in due dosaggi differenti 50 e 100 mg e il trattamento è durato circa tre mesi ha normalizzato oltre il 70 per cento dei pazienti ipertesi trattati riducendo la sistolica di circa 20 mm di mercurio e quasi di 23 con il dosaggio alto e di circa 10 12 mm di mercurio per la diastolica effetti collaterali sono praticamente inesistenti sul quadro lipidico sulla glicemia sulla funzione renale ma rispetto alla terapia di prima linea l'utilizzo del canrenone in forma precoce consente di proteggere gli organi bersaglio dall'ormone l'organismo anche se cerchiamo di bloccare la produzione dell'aldosterone cioè dell'ormone aldosterone dopo un po di tempo trovi il modo di aggirare il nostro tentativo di controllo fatto ad esempio con un ac inibitore o con un sartano con altri farmaci e quindi si rialzano i valori dell'aldosterone a livello plasmatico in questo caso dare il canrenone cioè un farmaco che è un anti aldosteronico può di nuovo normalizzare la pressione e controllare il danno a livello di organo bersaglio diversi i vantaggi anche in termini di costi il costo del canrenone molto basso diciamo che sono 40 compresse al pubblico costano 8 euro quindi sono costi 40 compresse vuol dire una terapia che può arrivare anche 80 diciamo dai 40 agli 80 giorni di terapia e quindi è un vantaggio per il sistema sanitario nazionale è un vantaggio per il paziente ed è un vantaggio per tutti sono migliaia nel mondo le persone che per festeggiare il capodanno subiscono lesioni da scoppio o ustioni causati da petardi e fuochi artificiali più rischi per mani e volto si tratta nel 7 per cento dei casi di lesioni gravi il 5 per cento caso all'amputazione dell'arto o la perdita della vista nell'occhio danneggiato eventi che possono però essere prevenuti basterebbe usare il buon senso il primo consiglio è quello di non utilizzare i fuochi d'artificio esistono dei professionisti che sanno come usare e gestire i fuochi pirotecnici basterebbe affidarsi a loro e guardare i meravigliosi spettacoli pirotecnici che ormai ogni città ogni ogni comune anche ogni piccolo centro urbano offre e poi c'è una serie di consigli che implica l'utilizzo sempre del buon senso di non utilizzare i fuochi d'artificio vicino a dei bambini spesso sono delle vittime incolpevoli di gravi danni di non utilizzarli in ambienti chiusi quindi di utilizzarli al di fuori all'aperto e a distanza da chi guarda di non raccogliere pedardi inesplosi e provare a farli esplodere in qualsiasi modo quello è un modo abbastanza certo per provocarsi delle lesioni gravi perché sono pedardi dove generalmente la miccia è molto corta e quindi il tempo di esplosione è molto vicino all'accensione l'altra cosa che mi sento di dire è di non provare mai a fabbricarsi dei pedardi in casa e mi raccomando di non acquistare mai pedardi in situazioni più o meno clandestine lì non c'è controllo non c'è sicurezza ovviamente Ma è sempre possibile ricostruire gli arti danneggiati? Arrivano appunto a seguito di un'esplosione con i tessuti assolutamente devastati esiste la possibilità di ricostruire le dita che non sono reimpiantabili come nel caso delle lesioni da scoppio quasi mai i frammenti di dita residue sono riutilizzabili però anche in quei casi si può eseguire un intervento ricostruttivo che prevede soprattutto nei casi in cui viene perso il pollice che è l'unico elemento opponente nella mano che prevede l'impiego di un dito del piede dell'alluce del secondo dito per ricostruire il primo raggio digitale per ricostruire il pollice si tratta di un trapianto microirurgico un intervento abbastanza complesso e delicato che però dà degli ottimi risultati funzionali tecniche mini invasive che potrebbero salvare la vita ai pazienti con patologie valvolari praticate però nel nostro paese con il contagocce L'Italia che alcuni anni fa era il secondo posto per numero di interventi sta scivolando verso gli ultimi posti delle nazioni più evolute noi avevamo lanciato una campagna di sensibilizzazione bene in questo caso ogni valvola che noi facciamo è una vita salvata noi che abbiamo una tecnica che essendo non chirurgica ci permette di fare la stessa procedura di sostituzione valvolare con un fischio che è assolutamente basso nel nostro centro quest'anno 2016 noi abbiamo fatto 70 valvole con mortalità zero alcuni pazienti sono morti perché le autorità sanitarie ci impongono dei limiti all'utilizzazione è vero che fare sesso fa bene alla salute? è vero direi che è vero perché la sessualità fa comunque parte del benessere più generale della persona fare sesso con amore è meglio per la salute? è parzialmente vero nel senso che la sessualità appunto essendo una parte integrante del nostro benessere generale può essere anche fatta senza il sentimento e senza l'amore diciamo che l'amore gli dà uno sprint in più ma questo per la persona che lo vive avere delle fantasie fa bene al rapporto sessuale? le fantasie aiutano è vero aiutano però nel senso che servono alla persona che le fa ad auto eccitarsi mentalmente non è bene invece sempre comunicarle le fantasie sessuali vanno sempre messe in pratica? assolutamente no le fantasie quando si mettono in pratica rischiano di perdere il loro potere diciamo così erotico quindi le fantasie hanno un senso e hanno la loro potenza pertanto che rimangono nella nostra mente e nella nostra fantasia fantasticare su qualcuno durante il rapporto sessuale è tradire? direi proprio di no anche se questo è il vissuto che spesso le persone hanno e quando ce lo raccontano ci dicono proprio di avere la sensazione di aver tradito l'altro in realtà no perché le fantasie come diciamo spesso sono il nostro giardino segreto e in quanto tale servono proprio e contribuiscono diciamo così a rendere sicuramente più erotica la situazione che si vive con l'altro è vero che il sesso virtuale fa bene? fare sesso virtuale fa bene a chi lo fa sicuramente è vero diciamo che questo aiuta per esempio noi dobbiamo pensare appunto a tutte quelle coppie che per motivi di studio, di lavoro per esempio sono molto lontane tra loro e quindi questo strumento può essere uno strumento valido e alternativo a lunghi periodi per esempio di assinenza oppure pensare a tutte quelle persone che per motivi di disabilità fisica in modo particolare non possono accedere ad una sessualità tra virgolette normale quindi utilizzano appunto la sessualità virtuale un centro europeo di ricerca e sviluppo dedicato alla chirurgia robotica insieme a una palestra dove i camici verdi che operano con l'aiuto di assistenti e transistor potranno allenarsi lo ha inaugurato a Milano Transenterix azienda americana attiva nel campo dei dispositivi medici e dei robot applicati alla chirurgia soft la struttura si trova nell'area del campus Bicocca pezzo forte del nuovo centro il robot chirurgico Sinans un sistema multiporte che offre ai pazienti vantaggi della chirurgia robotica meninvasiva spiegano da Transenterix dotando i chirurghi della nuova tecnologia innovativa come il feedback aptico e il controllo della videocamera con il solo movimento degli occhi autorizzato in Inghilterra il concepimento di bambini con tre genitori il Regno Unito è il primo paese a dare il via libera dopo il sì del Comitato Britannico di Bioetica alla fecondazione a partire dal DNA di tre genitori in modo da evitare la trasmissione di una malattia ereditaria materna veicolata dal DNA mitocondriale rispetto ai maschi di altri primati oggi gli uomini non sono più dotati dell'osso del pene il baculum la cui evoluzione sarebbe avvenuta nei mammiferi tra 145 e 95 milioni di anni fa secondo uno studio britannico quest'osso favoriva infatti i mammiferi maschi nella competizione per accaparrarsi le femmine una situazione tipica dei sistemi poligamici l'introduzione della monogamia avrebbe poi reso inutile la presenza dell'osso la malaria è una malattia antica anzi antichissima colpì anche 2000 anni fa in pieno impero romano è quanto emerge da un'indagine internazionale che grazie all'analisi genetica ha confermato tracce di DNA mitocondriale della malaria nei denti di alcuni corpi sepolti in tre cimiteri italiani del primo terzo secolo dopo cristo negli anni dell'impero romano pertanto la malaria patologia che ancora oggi causa circa 450.000 morti all'anno nel mondo fu probabilmente causa significativa di morte e malattie nell'antica Roma commentano i ricercatori questa era la nostra ultima notizia per contattarci potete scrivere a salutechioccioladncronos.com grazie per averci seguito e alla prossima puntata